al segno dell'acquario, ancora una volta pensierosi, un po' scorbutici anche in questo giorno in cui è difficile che le cose vi stiano bene quando vi saranno proposte anche dal partner e in effetti è una luna che va ad agire proprio sui rapporti sentimentali che non vi appagano non vi soddisfano fino in fondo e sarà evidente sotto questa luna perché siete pronti a lamentarvi siete pronti anche a criticare la persona che vive al vostro fianco insomma è una giornata un po' movimentata sotto questo punto di vista però è chiaro che nei prossimi giorni quando poi la luna entrerà nel vostro segno perché è pronta ad entrare nel vostro segno tutto tenderà a livellarsi e quindi anche i problemi che avrete sollevato in questa giornata magari potrebbero rivelarsi di poco conto chiudiamo con il segno dei pesci